Salgono a sette le denunce per i ragazzi tutti tra i 12 e i 13 anni responsabili degli atti vandalici e gli asili di Camucia avvenuti nella sera di Pasqua. Tutte le stanze del fabbricato vennero pesantemente danneggiate, distrutte le apparecchiature elettroniche, imbrattati i muri con salsa di pomodoro, attivati gli estintori e distrutto materiale didattico. Non contenti, vennero infrante anche le vetrate e spaccati alcuni mobili di legno. Migliaia di euro i danni registrati dal comune di Cortona. Danneggiamento aggravato e interruzioni di pubblico servizio, di questo dovranno rispondere altri tre ragazzi individuati dai carabinieri, oltre ai quattro già denunciati in precedenza. Ad incastrarli sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano installate nella zona e che hanno immortalato la fuga del branco. Anche in questo caso, spiegano i carabinieri di Cortona, titolari delle indagini, sono tutti minori di 14 anni. I denunciati sono infatti classe 2006-2007. I tre, trattandosi di minori non imputabili, verranno gestiti come gli altri dall'autorità giudiziaria preposta, ovvero il Tribunale dei Minori di Firenze. Della vicenda sono state informate anche le famiglie dei minorenni, due delle quali di origini straniere. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità di altri ragazzi.